Adesso in questo spazio ci occupiamo di imprenditoria in un mondo che oramai lo sapete sempre più senza confini, in un mondo dove la tecnologia primeggia in maniera strepitosa. Lo chiediamo però ad un imprenditore, cerchiamo di capire oggi come nasce un'impresa in questo nuovo mondo sempre più dinamico. Diamo il buongiorno a Gianluca Colaiacolo, lei ha fondato la Aerial Clean, un'azienda che fornisce prodotti per la pulizia della casa, ma anche per le aziende e le industrie, insomma oggetti che comunque ci ritroviamo spesso nel nostro quotidiano. Buongiorno, salve e grazie per essere con noi oggi. Io direi di partire però dalla sua storia, una storia molto particolare, una storia che ricorda un po' anche gli Stati Uniti, se vogliamo, perché lui è un self-made man, un ragazzo che riesce a farsi da sé piano piano, da dimostratore, riesce a fondare una propria azienda, l'Alier Clean come vi dicevo prima. Da dove vogliamo partire? Eri ragazzo? Sono stato un calciatore, giocavo a calcio in Toscana e da lì ho conosciuto mia moglie. Dopo due anni, finito le scuole, sono arrivato ad un Bibio dove tornavo dei miei giù oppure cercavo fortuna su al nord. Mi sono detto con mia moglie, vengo su, vediamo due settimane se trovo lavoro e Dio è stato buono, ho trovato tanti lavori, non uno. Il dimostratore, no? No, ho iniziato come operaio. Come operaio? Ho fatto l'operaio, tanti anni. Di lì in poi una carriera che ti ha portato poi ad essere impregnitore dell'azienda di cui parleremo oggi. Sì, perché poi essendo comunque napoletano, anche se mi sono trasferito al nord e dove ora vivo, mi è sempre piaciuto stare a contatto con le persone. Tramandato anche dalla mia famiglia dove per tanti anni hanno avuto la possibilità di vendere, a contatto con le persone, vendita diretta, me lo sono sempre portato dietro. Ho avuto l'approccio con delle fiele, con alcuni prodotti e mi sono appassionato. Un pochettino già ero un po' portato. Poi mettiamoci anche la passione. E nasce un'impresa. Cosa spinge un giovane, perché è giovanissimo, a creare un'impresa in Italia oggi, nonostante le tantissime difficoltà? Le difficoltà sono molteplici in effetti, però credo che la passione, la costanza e la voglia di continuare a fare un qualcosa che gli altri non fanno, siano dei buoni espedienti per crearsi un buon cammino. A questo proposito io entrerei nel merito proprio del tuo lavoro. L'e-commerce che è il comune denominatore di tutte le prezzazioni. Assolutamente. Come hai pensato di arrivare a questo modello di e-commerce e quali sono gli sviluppi oggi? Allora, calcoliamo che in Giappone tre prodotti su cinque vengono venduti tramite e-commerce. Pensavo di più. Però stiamo parlando di una realtà che se la trasferiamo qui in Italia ci sembra quasi fantascienza. Io credo che alcune nazioni su alcuni punti siano più avanti di noi e noi nemmeno dobbiamo comunque adeguarci. Come ci stiamo adeguando? E ti sei ispirato al modello di Giappone? Da lì è partito, dico, se gli altri ci riescono, se alcuni lo fanno, proviamoci. Intanto non costa nulla, non è vero. Perché costa. Certo. È anche tanto. Però quello che insomma suscita comunque, non sorpresa però, comunque ammirazione, no? Perché poi ci si riesce dopo tanto impegno, tanto lavoro, tanto sudore. Però la bellezza di cui parlava anche Claudio con l'e-commerce è che comunque internet offre varie opportunità a prescindere dall'oggetto di cui insomma si parla. Noi in questo caso con Ariel Clean conosciamo dei prodotti per la pulizia della casa, per le aziende. Però magari cambiando l'oggetto l'e-commerce offre comunque delle opportunità valide. Il punto focale non è tanto quello che vendi, perché prima di vendere un prodotto devi vendere te stesso, devi vendere l'azienda, devi vendere il nome, devi vendere l'affidabilità. Chi compra su internet che cosa vuole? Chi compra su internet vuole che l'azienda sia sempre... A parte risparmiare. Oltre a risparmiare, che in area crisi si risparmia tanto, ma vuole essere seguito passo passo. Anche per domande che per noi possono sembrare sciocche, banali, tu non sai che di fronte, puoi avere un hacker che è un informatico oppure puoi avere l'asciura Maria come dicono a nord. Parliamo di customer care. Eh, assolutamente. Che cos'è Ariel Clean? Ariel Clean è un'azienda dove ha cercato di imporsi in questo mondo di e-commerce e pulizia con tante realtà, anche più grandi, iniziate tanti anni prima, in maniera determinata, decisa e offre un qualcosa che non tutti possono offrire. Cosa? Prodotti per pulizia, made in Italy, che funzionano veramente. E la bellezza che stiamo riscontrando con i ragazzi proprio in questi mesi è che abbiamo tantissimo ritorno di clienti. Quella è la cosa più importante. Anche in questo settore, Claudio, vedi il made in Italy diventa un punto di forza. Assolutamente. Mi sembra di comprendere dalle parole. Assolutamente. Noi puntiamo sul made in Italy, su ogni cosa, anche sul panno che è il nostro punta di diamante come prodotto. Ed è una fissa per tutte le signore che in questo momento ci stanno ascoltando, ci stanno vedendo. Perché tanto cosa facciamo noi? Noi andiamo a, siamo abituati a scendere sotto casa a comprare il panno che costa poco. E questo è uno dei problemi, perché si va ad acquistare un panno che costa poco, quando invece in realtà ti dimentichi della qualità. E scendi a comprare questo panno più volte durante un mese. E magari dura anche meno tempo. Più volte scendi a comprarlo. Quando invece lo potresti acquistare una volta, ti dura negli anni, lo puoi lavare in lavatrice, lava, asciuga, utilizzi solo un'acqua. Perché noi ci teniamo tanto anche all'igiene di questo mondo. Cioè comunque la plastica, l'ambiente, tra l'altro la tematica che, ecco, adesso sta riguardando anche tantissime aziende. Mi sembra che Ariel Clean le rispecchi. Come, ecco, ma stiamo incuriosendo sicuramente tantissime. Signore, come trovarvi? Allora, potete andare sul sito arielclean.com, clean in inglese, arielclean.com. E potete trovare 78 prodotti in gamma, tra profumazioni per il bucato, profumazioni per l'ambiente e tessuti, panni di vario genere, di vario tipo. Abbiamo anche tutto quello che è necessita per le pulizie, dalla classica scopa, all'attiracolore. E profumatori per l'ambiente. Profumatori per l'ambiente e profumatori bucato, che sono qualcosa di eccezionale. Di diamante, qualcosa delle chicche, Claudio, lo so, ma anche tu ne hai bisogno, però in realtà. Assolutamente, anche io vivo. E sei, insomma, ammi la polizia. Grazie, grazie al nostro ospite Gianluca Colaiacolo per essere stato con noi. Grazie a voi. E io mi incuriosita, tra poco vado a vedere cosa... Vai su internet. Vado su internet. Restate con noi, c'è un piccolo spazio pubblicitario. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie per la visione!